In Italia sono in tutto 50 le strutture complesse di microbiologia degli ospedali e soltanto 4 funzionano H24. Tra queste spicca l'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, l'unica clinica abruzzese a Valenza regionale impegnata con il proprio personale nella gestione della sepsi senza discontinuità di orario. Nota anche come setticemia, la sepsi è un'invasione di microorganismi, funghi o batteri nel corpo umano che raggiungono e infettano gli organi determinando situazioni mortali di shock settico se non si agisce rapidamente e con la giusta cura. In Europa la sepsi provoca ogni anno 200.000 decessi con un'incidenza quattro volte maggiore rispetto al tumore, soprattutto tra anziani e immunodepressi. Un intervento immediato riduce però drasticamente le percentuali di mortalità ed è per questo che l'attività della microbiologia del Santo Spirito che dal primo febbraio del 2016 ha attivato un percorso virtuoso di operatività H24 diventa fondamentale per salvare il paziente. Dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia del presidio ospedaliero di Pescara. Io ho la fortuna di dirigere questa unità operativa complessa da cinque anni, nei primi due anni come facente funzione e da tre anni come direttore effettivo. La microbiologia e la virologia clinica praticamente si occupa di tutto ciò che è microscopico, quindi noi siamo al servizio dei colleghi ma anche degli utenti che hanno malattie infettive. Noi come microbiologia di Pescara siamo stati primi in Italia a gestire il lavoro su due turni, uno mattutino pomeriggiano e una reperibilità notturna che effettivamente garantisce la salute non solo dei ricoverati ma anche degli utenti per qualsivoglia patologia infettiva acuta, parlo che ne so di una meningite batterica, piuttosto di una meningite incefalite virale e soprattutto un ruolo importante si fa nella gestione della sepsi che può purtroppo comportare un'evoluzione purtroppo verso lo shock settico. Se non si interviene precocemente ed ecco il ruolo appunto del microbiologo in pratica il 70% fino al 70% delle persone in shock settico può morire. Quindi è naturale che una diagnosi precoce è fondamentale per la terapia prontamente instaurata e noi siamo stati i primi in Italia a organizzare questa cosa grazie ai miei collaboratori siamo riusciti insomma ad organizzare questa reperibilità, questo servizio H24 che è un po' diciamo il fiore all'occhiello della mia unità operativa complessa e soprattutto mi gratifica come medico, come professionista.